19 giugno 2020 Il Sacratissimo Cuore di Gesù Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 11 In quel tempo Gesù disse Ti rendo lode, Padre, Signore del Cielo e della Terra perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli Sì, oh Padre, perché così hai deciso nella Tua benevolenza Tutto è stato dato a me dal Padre mio Nessuno conosce il figlio se non il padre e nessuno conosce il padre se non il figlio e colui al quale il figlio vorrà rivelarlo Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi E io vi darò ristoro Prendete il mio gioco sopra di voi E imparate da me che sono mite e umile di cuore E troverete ristoro per la vostra vita Il mio gioco infatti è dolce E il mio peso leggero Gesù chiese il culto del suo cuore A Santa Margherita Lacocque in Francia Durante la quarta apparizione Avvenuta il venerdì dopo l'ottava del Corpus Domini Del 1647 Gesù volle che in questo giorno Ogni anno venisse celebrata la festa in suo onore E dunque volontà del Signore Che il suo sacratissimo cuore Venga venerato in tutto il suo significato Di salvezza degli uomini per amore Le parole della Santa sono illuminanti Il Divino Cuore mi fu presentato Come in un trono di fiamme Più sfolgorante di un sole E trasparente come un cristallo Con la piaga dorabile Esso era circondato da una corona di spine E sormontato da una croce Il cuore è trasparente come un cristallo Non appare come un cuore di carne Ma trasfigurato dall'amore ardente Che è rappresentato come un trono di fiamme La luce e la purezza sono la sua essenza Ed il fuoco d'amore che purifica ed incendia i cuori umani Sono il suo trono Il trono è il luogo del governo del mondo E delle anime La luce pura che per eccesso di amore si rivolge all'umanità Produce la sua incarnazione E la sua passione Per i dimeri peccatori E trasformarli a sua somiglianza Il cuore è sormontato da una croce E circondato dalle spine E ferito Tutta la tragedia del Golgotha è riassunta in una sola immagine La croce La croce E il cuore trafitto Non si addicono alla purezza cristallina di Gesù Bensì ai nostri cuori di peccatori Eppure È il suo cuore Che subisce la pena per i peccati Il cuore innocente si è sostituito al nostro Per compiere quello che noi non avremmo potuto fare Soffrire e pagare per le colpe Poiché il peccato rende pavidi e prigionieri Incapaci di soffrire Per pagare il prezzo delle nostre colpe E tantomeno soffrire per amore di Dio E per il prossimo Così il Signore fa quello che noi non possiamo Ma ci mostra anche quello che fa Per indurci ad amarlo E rendersi capaci di sacrificio La visione della sua passione infatti Colpì il centurione pagano Ma non i cuori induriti degli israeliti Poi lo Spirito Santo attraverso Pietro Trafisse i cuori di migliaia di persone Che si sentirono colpevoli E si convertirono a gelusarene Questo mostrare la passione per amore Intende toccare i cuori Ancora più induriti col passare del tempo Più aumenta la distanza temporale Dalla passione di Gesù E più sembra affievolirsi la fede e l'amore Ed ecco Gesù mostra ancora in modo vivo Quello che avvenne e che dura ancora nel suo cuore per noi La visione a Santa Margherita Lacocque Intende indicare a noi più di allora Gesù che patì sulla croce Ma ancora patisce per i nostri peccati Siamo chiamati a contemplare la sua passione di amore E guardando il cuore di Gesù La nostra anima viene intenerita e convertita L'immagine del Sacro Cuore rappresenta Una devozione totalmente spirituale Che intende infrangere le mura del nostro cuore Della nostra insensibilità Per chiamarci a condividere la purezza e l'amore divino Gesù nella quarta apparizione Santa Margherita disse Ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini Da non risparmiare nulla fino al sacrificio supremo Senza limiti e senza riserve Per dimostrare il suo amore La maggior parte di essi però Mi ricambia con l'ingratitudine Che manifestano con irriverenze Sacrilegi E con l'apatia e il disprezzo Verso di me In questo sacramento d'amore Ma ciò che maggiormente mi affligge È il vedermi trattato così anche da cuori A me consacrati Quelle parole di allora Sembrano adattarsi meglio al nostro tempo Se la freddezza, l'indifferenza E l'irrisione erano diffusi Nel XVII secolo Ora questi orribili atteggiamenti Sono dilaganti tra i battezzati E i consacrati stessi Che in nome di una fede adulta Spesso hanno perfino irriso Il culto del sacro cuore Non è difficile riconoscere Che tre secoli e mezzo Sono trascorsi in un declino Per cui le parole di allora Sono profezia per oggi La contemplazione del Cristo in croce E della sua crudissima sofferenza Per il perdono dei nostri peccati Ci porterebbe alla conversione Ma tutto congiura Affinché non si guardi Non si contempli Si nasconda la croce La sua realtà E la sua necessità Per far salire al cielo La nostra umanità Dio vi benedica